Stasera la mette sulle... Bisogna tagliare qualcosa. Ah beh, giusto per... Ottombre, dal 26... Tu sei nato ai 26, eh? Sì, 26 a ottombre. Shealia, il tuo... Il tuo angelo. Dio animatore. Protezione... Protezione dei prepotenti. E dagli... Il tuo progetto. Carattere amabile e gentilezza in anima. Ottima salute, ripresa rapida dalle malattie e capacità di curare gli altri. Riconoscimento dei propri negli. Questa è una forza non andata. Riconoscimento dei propri negli. Eh sì, così si vede, eh? Eh? E poi l'altro è qua. Eh? Vabbè mettimolo... Eh, ok, ok. L'altro polino è qua. Quindi vabbè, fallo scendere un pochino, lo metto stasera con l'altra con la qui. E poi... E poi... E poi... E poi... Grazie. Ciao, ciao. Al prossimo compleanno. Questi vanno in base alle date di anni. Sì, sì, sì. Biglietti, biglietti. E questo è più importante. Quante volte va a prenderci la sera? Sì, sì, sì. Allora... Così poi dopo leggo. Sono un po' disgrafica. Ok. Tanti auguri ad una persona semplicemente speciale. Ti vogliamo tanto bene, ci vedete bene. Non ho parole, penso che la mia espressione... Ha certo lei il regalo? Lei ha scelto il regalo? Quando vi sposate le dire l'ambito assicurato, il trucco assicurato. Le fotografie... C'è tutta la messa cantata... C'è tutta la messa cantata... Allora... C'è un problema. Certimente come часто schали lì,